36.265 questi nuovi casi in Italia, mentre soltanto per la Sicilia l'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente è di 2.772. Questo secondo il bollettino del 17 agosto, consultabile dal sito tematico del Ministero della Salute, dedicato al Covid-19. In provincia di Caltanissette invece l'incremento è di 181 casi, secondo l'aggiornamento del 17 agosto relativa alle 24 ore precedenti. Sarebbero tutti in isolamento domiciliare, 58 pazienti di Gela, 29 di Caltanissetta, 13 di San Cataldo, 11 di Mussomeli, 11 di Riesi, 9 di Milena, 9 di Sutera, 7 di Niscemi, 5 di Campofranco, 5 di Resuttano, 4 di Butera, 3 di Acquaviva Platani, 3 di Mazzarino, 3 di Sommatino, 3 di Vallelunga Pratameno, 2 di Delia, 2 di Marianopoli, 2 di Montedoro e 2 di Serra di Falco. Tutti in istegno i pazienti ricoverati in degenza ordinaria, un paziente di Gela è stato dimesso, si registra anche un decesso di un paziente gelese positivo al SARS-CoV-2. 113 guariti, 37 pazienti di Gela, 16 di Riesi, 13 di Niscemi, 7 di Butera, 7 di Caltanissetta, 7 di Sommatino, 5 di Mazzarino, 5 di San Cataldo, 3 di Milena, 3 di Mussomeli, 3 di Vallelunga Pratameno, 2 di Sutera, 1 di Bonpensiere, 1 di Campofranco, 1 di Marianopoli, 1 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di Villalba.